Archiviata la dolorosa retrocessione in Serie A, l'Aquila Rugby riaccende i motori e presenta il nuovo staff tecnico. Primo obiettivo valorizzare i giovani e recuperare il rapporto con la città, che lo stesso presidente Zaffiri non esita a definire di odio e amore. Il nostro rapporto con la città è di odio e amore. Il rugby è tanto amato da tanti, ma lo sport agonistico, quello domenicale, un po' meno. Responsabile tecnico, una bandiera aquilana, Vincenzo Troiani, già in passato sulla panchina neroverde ed una lunga esperienza sia in federazione sia in Celtic League con la franchigia delle zebbre. Valutiamo un attimino innanzitutto i giocatori che intendono rimanere e aderire a un progetto. Io ho parlato di aquilanità, ma per me l'aquilanità non è un luogo di nascita, ma per me deve essere un modo di interpretare questo sport. E come è stato interpretato questo sport? Da chi ha preceduto questi ragazzi con questi colori e i colori di questa città. Chi aderisce a questo progetto deve prendersi carico delle responsabilità che significa rappresentare questa città in questo momento e quello che rappresenta la ricostruzione, non edilizia ma sociale, di questa città, chi indossa questa maglia. Io sono convinto che l'Aquila Rugby, così come l'Aquila Calcio, debbano essere dei punti di riferimento per i cittadini di questa città. Aquilano Doc, anche l'allenatore del sudalizio neroverde Pierpaolo Rottilio, tecnico con un curriculum importante, impreziosito da una promozione proprio in Serie A con la Gran Sasso Rugby. A completare lo staff, un altro pilastro della palla ovale aquilana, Maurizio Zaffini, che si occuperà della preparazione fisica dei giocatori. È un momento delicatissimo, l'Aquila Rugby, insomma, non dimentichiamo che è retrocessa e questo non lo può cambiare nessuno. Adesso, però, la buona notizia è che l'Aquila Rugby ha una grande occasione di ricostruire, di ripartire dalle fondamenta, dai principi del nostro modo di vivere il rugby e costruire qualcosa di solito, di duraturo per il futuro.